Presidente, il Movimento 5 Stelle ha annunciato un atto di sfiducia nei suoi confronti, lei come replica? Non solo il Movimento 5 Stelle, anche altri colleghi dell'opposizione, replico con rispetto, rispetto, chiedo scusa il bisticcio di parole, per le lacune e le mancanze politiche, più in generale del Consiglio, probabilmente dell'Aggiunta, per la fase storica, per la compressione del ruolo del Consiglio, per il ricorso eccessivo al voto di ratifica, c'è da lamentare e migliorare il ruolo delle commissioni, per carità, sa, però noi culturalmente pensiamo che nessuno da solo possa cambiare un contesto, io mi adopererò e di più per dare un contributo di miglioramento e questo richiede un impegno, un tempo e una fatica. Sulla personalizzazione e sulle sue mie mancanze, oggettivamente non saprei perché ci si aduce ad alcuni formalismi all'andamento della conferenza dei capigruppo o alla calendarizzazione degli atti, i cui limiti personali, che sono tantissimi in questo caso, forse non si sono rivelati, e quindi prendo atto, come ha detto con grande sincerità Palmieri, che sono stato, come dire, passato nel momento sbagliato, che ci sia una battaglia politica contro la maggioranza, contro la giunta, in questo momento la si qualifica contro di me, per carità, grande rispetto, siamo sempre, come dire, al servizio, pur con un po' di rammarico che scegliere gli argomenti migliori qualifica sempre gli argomenti di tutti, comprese delle minoranze, e forse questa volta non hanno scelto il meglio.